Arbitra Varnutas! Arbitra Varnutas! Arbitra Varnutas senza scrabone! Arbitra Varnutas! Arbitra Varnutas! Sportivi, il vostro tonico è Vernet Franca! Vernet Franca digestivo! Sportivi, entrate nel giro di gaccia americana, gaccia americanissima! E ora signori! 30 ore per la FIFA L'Italia è un paese bello, con dei problemi di aggiornamento per il paese e le partite si svolgeranno regolarmente Per la FIFA Arbitra Varnutas! Arbitra Varnutas! Ora signori! Le partite si svolgeranno regolarmente Ora signori! L'Italia è un paese bello e le partite si svolgeranno regolarmente 30 ore per la FIFA 30 ore per la FIFA 30 ore per la FIFA Le partite si svolgeranno regolarmente Basta è un paese bello e le partite se si svolgeranno regolarmente 20 ore per la FIFA 30 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 ore per la FIFA Siamo caricati 30 ore per la FIFA Grazie a tutti 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 Grazie a tutti